la prossima speaker è Luisa Parks del Scuola di Studi Internazionali grazie, buongiorno mi tengo qualche nota qui perché purtroppo sono molto pigra nella vita lavorativa parlo quasi sempre madrelingua che sono britannica quindi vi chiedo un po' di pazienza che non sono così fluente come gli altri presentatori allora, oggi sono qui per il conto della Scuola di Studi Internazionali che è un centro interdipartimentale dell'Università di Trento quindi siamo una piccola scuola interdisciplinare che coinvolge colleghi economisti, storici geografi, sociologi di scienza politica è di giurisprudenza e abbiamo uno sguardo un po' più interdisciplinare ma sempre umanistica scienze sociali su queste questioni legate anche ai cambiamenti climatici e in effetti recentemente abbiamo fondato il nostro cluster gruppo di ricerca su ambiente che coordino ma sono io personalmente sociologa politica quindi oggi presenterò qualcosa di quello che succede nella scuola con un sguardo un po' più sociologico ecco per iniziare questi sono tutti progetti molto giovani quindi in termine di risultati ci stiamo lavorando non riesco a dire un granché ancora ma vi accenno qualcosa forse il più interessante appunto per oggi questo progetto coordinato da una collega Federica Cittadino che ha fatto il dottorato alla nostra scuola che adesso è all'Eurac in Bolzano che coordina questo progetto che cerca di guardare appunto e questa è una chiave di tutta la ricerca alla scuola e come vengono prese le decisioni che hanno da che fare con il cambio climatico dal livello globale al livello subnazionale con o senza coinvolgimento di vari gruppi sociali e incluso i scienziati quindi anche pensando a come tradurre come tutte le ricerche che abbiamo sentito questa mattina come vengono tradotti in veri decisioni da parte degli enti governative quindi questo è un progetto che è sempre internazionale ma come sapete non bisogna andare molto lontano per essere internazionali in questa zona quindi guardiamo il livello subnazionale di presa di decisione in provincia di Trento provincia di Bolzano e anche i lender Tirol e Vorarlberg in Austria proprio per vedere in settori di diversi politiche subnazionali come vengono presi in considerazione i questioni di cambio climatico e qualcuno qui della provincia forse è stata indefistata appunto del mio collega Niccolò Bertuzzi per capire appunto non solo cosa funziona in ogni singola provincia e condividere best practices ma anche di capire in un focus comparativa cosa funziona sotto quali strutture perché possiamo dire sì questo ha funzionato qui ma magari non è una cosa che si trapianta molto facilmente in un altro contesto governativa e qui guardiamo vari settori di politiche e anche vari fattori istituzionali che potrebbero avere un impatto il leadership la partecipazione dei cittadini livelli di coordinamento verticale e orizzontali e anche la disponibilità dei fondi proprio dedicati all'integrazione del cambio climatico come considerazione nello sviluppo di politiche subnazionali ci stiamo lavorando stiamo elaborando queste con un studio di di caso al momento il volume verrà presentato a Bolzano a fine anno quindi forse riceverete anche inviti a questo anche qui ma brevemente nella scuola abbiamo anche altri studi piuttosto sul livello internazionale ma come sappiamo tutti ogni passo che facciamo per affrontare il cambio climatico nel contesto locale è inserito in un quadro istituzionale e governativa molto complessa al livello internazionale e nazionale siamo molto lieti di aver vinto due scholarship con il programma Marie Sklodowska Curie dell'Unione Europea quest'anno abbiamo per esempio la dottoressa Swyod Skula che lavora appunto su piattaforma digitali per il coinvolgimento della cittadinanza su questioni di cambio climatico e lei andrà a capire quanto possono funzionare tali piattaforme in termini di vero empowerment dell'individuo dell'associazione dei cittadini anche questo un progetto in corso un'agenda di ricerca un po' lungo termine che è iniziato prima che sono arrivata a Trento quindi quando lavoravo ancora nel Regno Unito con un progetto europeo con l'IRC sulla condivisione dei benefici che comunque che sapete molto di voi scienziati quelli veri quelli duri ecco fa parte del quadro giuridico sulla biodiversità con popoli locali comunità locali e popoli indigeni soprattutto quando si va ad accedere ai saperi tradizionali e anche alla materia genetica in altri paesi questo progetto su benefit sharing lo faccio in inglese perché se no non vengo alla fine abbiamo guardato appunto come vengono coinvolti i saperi tradizionali più o meno di popoli indigeni ma anche sono raggruppati con l'idea della comunità locale che siamo tutti di una comunità locale in qualche modo vengono presi in considerazione nello sviluppo di decisioni anche a livello globale abbiamo guardato particolarmente la convenzione sulla diversità biologica guardando queste cose è un lavoro che portiamo sempre aggiornando chiedendoci più recentemente esatto cosa sta succedendo in questo coinvolgimento dal livello locale fino a quello globale nella negoziazione in corso della post 2020 global biodiversity framework e vorrei sottolineare una cosa che non si vede qui è che il secondo progetto Marie Curie che abbiamo alla scuola è proprio di Elsa Ziumani una collega greca che lavora alla scuola sul il quadro giuridico della biologia sintetica che è una questione che forse come sapete sta bloccando appunto queste negoziazioni proprio perché tra altre cose i paesi in via di sviluppo chiedono che vengono dati soldi per i saperi genetici eccetera che possono essere utilizzati anche per fare un monitoring del stile che abbiamo visto qui ok grazie e sono domande che più o meno alla fine ci toccano anche a noi nel contesto più locale questi sono due pubblicazioni venuti fuori di questo progetto che si è concluso nel 2018 siccome erano europei sono tutti in open access se volete guardare qualcosa e quasi finalmente faccio un accenno anche ad un progetto diretto da una collega storica la professoressa Sara Lorenzini che ha un progetto di ricerca di importanza nazionale un PRIN che cerca a capire questa la scienza politica advocacy e il suo ambiente sviluppo durante la guerra fredda ma anche molto oltre anche con considerazioni contemporanei proprio per capire in che modo gli scienziati diventano a volte attivisti nella presa di decisioni sull'ambiente cosa possiamo capire del passato proprio al momento che viene politicizzata anche scoperta in qualche modo l'esistenza del problema del cambio climatico come una cosa sulla quale bisogna agire anche a livello politico molto molto brevemente abbiamo anche un'agenda di ricerca a lungo termine che io sono partita come studiosa di movimenti sociali e ONG e il loro ruolo nel sì anche su sulla legislazione ambientale e abbiamo un'agenda di ricerca che continua a capire soprattutto i punti di vista degli attivisti giovanili che si fanno sentire in modi anche abbastanza visibili quando fanno la marcia per la clima in centro e cosa pensano loro che dobbiamo fare per il clima anche come gruppo di persone soprattutto nel quadro della giustizia intergenerazionale coinvolgere le voci di chi forse non ha ancora il voto eccetera e capire come dialogare e come tradurre anche le nostre trovaglie e le nostre decisioni con questi gruppi e questo facciamo in collaborazione anche con colleghi della scuola normale superiore che ha la sua sede di Firenze il gruppo di ricerca Cosmos e io chiudo qui e vi ringrazio